Ciao a tutti, sono Michele Covi. Sono attaccante nell'Hockey Hunterland Cavaliers Bacio della Luna. È sicuramente una bella domanda, però scelgo i biscotti, soprattutto quelli che fa la mia mamma. Auguro a tutti i nostri supporters e le persone che ci seguono di passare un bellissimo Natale e un fantastico 2021.